La comunicazione con il paziente depresso è fondamentale. Uno di questi principali problemi con questo tipo di disturbi sta proprio qui. Se manca un linguaggio capace di attivare la persona, di farle sentire qualcosa, di smuoverla da quello stato di pietrificazione emotiva, da quel tiepido ribollire di rabbia, sarà molto difficile lavorare con lei. E quindi? Quindi fare un video sulla comunicazione con il paziente depresso è davvero ardito, e lo dico già qui, sarà vittima di incompiutezza. Però magari qualche idea la possiamo dare. Ad esempio, parliamo della prima seduta. Una delle prime cose da fare con la persona depressa è infatti stanarla dalla sua posizione di lamentela e vittinismo e rinuncia. credo di aver detto vittinismo, che potrebbe il vittino, il vittino, cos'è? Andiamo a cercare e poi capiamo cos'è il vittinismo. Andiamo a cercare cos'è il vittino. Vittino, trattoria, vittino. Quindi tu devi stanare la persona che si è andata a rintanare a trattoria, vittino, che lo possiamo anche dire qui in diretta a YouTube, si trova a biella, biella. Quindi devi stanare il depresso dalla trattoria vittino di biella. Ti tocca andare fino a là. Vada bene, può avere tutte le ragioni per lamentarsi e sentirsi vittima, ma se hai visto il mio video della scorsa settimana, tre comportamenti disfunzionali in chi è depresso, saprai una cosa. Saprai che proprio la rinuncia e il vittimismo contribuiscono a mantenere il buio della depressione. Per ciò che si fa? Si stanna la persona proprio da quella posizione rinunciataria e un buon modo per farlo è non colludere. Colludere significa giocare insieme e tu devi proprio evitare di giocare il gioco della depressione. Come? Guai a fare il compassionevole, il comprensivo, il supportivo. Se la persona è nella sua posizione di vittima, lasciamola nel suo vittimismo. La rinuncia è un suicidio quotidiano, dice Nardone ai suoi pazienti depressi, citando Onore de Balzac, e questo aforismo ci dice due cose. La prima è il tipo di contenuto che possiamo utilizzare nelle nostre comunicazioni. Si tratta di un contenuto che non deve mai essere offensivo o squalificante, ma che terapeuticamente deve smuovere la persona. Guardi, non voglio farle perdere tempo e non voglio perderne io. Se vuole lamentarsi può farlo sicuramente con i suoi cari, ma non può farlo qui dentro. E questo è il tipo di comunicazione ambivalente che dobbiamo usare. Ci sono, ma sono qui per aiutarti, non per farti una carezza. E la seconda cosa che ci illustra un aforismo come quello di de Balzac è che il linguaggio deve essere evocativo. Visto che ho già fatto un video intitolato il linguaggio suggestivo, come utilizzarlo in psicoterapia, evito di ripetermi, di rispiegare come funziona. Però diciamo che il succo è questo. Dovrei usare soprattutto all'inizio un linguaggio fortemente analogico, suggestivo, con immagini anche molto forti, ma contemporaneamente caldo, accogliente, suggestivo. E qui, inutile dirlo, ti devi allenare. Sempre su questa linea puoi utilizzare delle comunicazioni che cavalchino la logica del creare avversione. Come forse sai, se segui i miei video, si tratta di una logica di intervento tesa a suscitare nella persona un'avversione verso qualcosa. E secondo te, verso cosa dovremo suscitare avversione nel nostro paziente depresso? Ovviamente verso la posizione di vittima e verso l'atteggiamento rinunciatario che queste persone tendono spesso ad avere, insieme anche alla delega che spesso fanno agli altri di parti della loro vita. Sa, forse lei ha ragione a scegliere di rinunciare a tutto ciò che può fare. È venuto qua da me per risolvere un problema, ma forse lei ancora non è abbastanza in grado di uscire da questa gabbia che si è creato. Attenzione però, l'errore più grossolano che uno psicologo può fare è quello di usare questa comunicazione con il depresso. Ma come Flavio non hai appena detto che è esattamente il tipo di comunicazione che dobbiamo utilizzare con questo tipo di pazienti, dirà il collega comprensibilmente confuso. Sì, ma l'errore sta nello scambiare l'etichetta diagnostica con la persona. Come dice Chris Iveson in un capitolo scritto per il nostro libro che non è questo, è questo qui, terapia breve centrata sulla soluzione principi e pratiche, è proprio qui in queste situazioni che falliscono le terapie manualizzate. Dire che con il depresso può funzionare questa comunicazione non significa dire che potrà funzionare con Alessandra o Daniele. Ricorda che già Jung sosteneva che i tipi psicologici che identificava nei suoi scritti stavano solo nei suoi scritti, erano approssimazioni delle persone reali. E quindi cosa devi fare? Come linea guida puoi seguire quella dettata sopra. Fai sentire alla persona la scomodità della gabbia che si è creata, rovescia su di lei, però senza accusarla o squalificarla gli svantaggi della sua posizione, ma fallo tramite l'evocazione. Non basterà dire su, sii felice, esci, vivi la vita che è tanto bella, perché questo è il consiglio della nonna e se non c'è riuscita sua nonna con questo consiglio a tirarla fuori dalla depressione, probabilmente non ci riuscirai nemmeno tu. Dovrai piuttosto evocare le sensazioni, quelle sgradevoli, verso cui provare avversione o tramite cui far provare avversione, e anche quelle piacevoli, verso cui tendere. E come ti ho detto, su questo ti devi allenare. A ottobre, ormai lo sai, faremo un workshop sulla terapia breve per la depressione con Maiko Gliacco online tradotto. Puoi avere delle informazioni e iscriverti, ci sono ancora dei posti, su www.istitutoiknos.it e ci alleneremo anche su questi aspetti. Nel frattempo, mi raccomando, allena la tua comunicazione con le persone depresse, perché nei prossimi mesi e nei prossimi anni ne vedremo sempre di più.